Mister, buonasera. Una buona Juve, una buona Juve che per lunghi tratti meritava di essere in vantaggio ma a un certo punto si è trovata sotto con il gol di Malinowski, ha ripreso la partita con grande carattere. Mi dà una sua visione della partita? È stata una bella partita, era un dispiacere perderla perché comunque i ragazzi hanno giocato tecnicamente una partita giusta, bella. Non abbiamo realizzato le occasioni che abbiamo creato, abbiamo sbagliato molti ultimi passaggi, soprattutto nel secondo tempo, nella rifinitura. Poi dopo l'1-0 ho preso, tra l'altro, in un momento in cui c'era stata l'azione prima dove avevamo l'occasione per fare il gol. Sbagliato il passaggio, sono ripartiti loro e è stato poi bravo Malinowski a fare un gol straordinario sul calcio di punizione. A livello di intensità, questa squadra qua regge più l'urto in questo momento? Forse una partita così all'andata non l'avrebbe mai fatta, invece adesso reggiamo l'urto maggiormente con questi avversari di questa fisicità qui? Ma stiamo meglio fisicamente, abbiamo lavorato bene nella sosta dopo Natale, abbiamo trovato degli spazi dove abbiamo potuto lavorare, quindi stiamo crescendo fisicamente, tecnicamente, siamo più sereni e quindi giochiamo anche meglio. Oggi non ha giocato, ha lavorato tanto per i compagni, Sportiello gli ha chiuso due volte la porta, stiamo parlando di Vlaovic. Quanto ha dato in tre partite, in solo tre partite un attaccante di questo genere qua? Perché sembra anche una Juve cambiata notevolmente, nonostante sia qua da una settimana. Innanzitutto è un punto di riferimento davanti perché comunque lo troviamo nei momenti di difficoltà. Poi dopo, direi, ha dato molto, tecnicamente oggi ha fatto una buona partita perché ha avuto delle conclusioni importanti, deve comunque, è un ragazzo giovane, di 22 anni, che deve fare ancora tante esperienze, è 20 giorni che ha la Juventus, quindi deve essere più sereno durante la partita, soprattutto quando non gli riescono le cose che lui vorrebbe fare senza nervosirsi. Il tridente questa sera le ha dato ulteriori conferme? Hanno fatto una buona partita perché quando tutti si mettono a disposizione e mettono tecniche all'interno della partita è normale che traiamo di vantaggi. Un commento invece per quanto riguarda il centrocampo, un centrocampo si sapeva, Deron, Froiler, Combiners, che è stata forse un po' la sorpresa dei Gasperini quest'oggi. Come ha lavorato, secondo lei, la zona mediana con Locatelli, vertice basso? Hanno lavorato tutti bene, ma la scuola ha fatto una bella prestazione. È stata anche divertente, il problema è che alla fine stavamo perdendo 1-0 e quindi era che mi piacesse molto il calcio così perché credo sia stata una delle migliori tecnicamente che abbiamo fatto. Fortunatamente e soprattutto per la voglia di arrivare a conquistare il pareggio alla fine, direi ci siamo riusciti. E sulla strada giusta questa Juve? Ma sì, dispiace perché non aver vinto oggi, perché comunque sarebbe stata una bella vittoria, che avrebbe dato ulteriore entusiasmo, però dire la prestazione ci deve dar forza. Grazie, Ministro. Grazie a voi. Grazie a voi.